La Feral Pissalò, Bassano e Padova, queste tre partite saranno difficilissime quindi dobbiamo cercare di prendere punti in un modo o nell'altro non badando a quello che può essere l'estetica perché anche domenica abbiamo rigiocato molto bene però abbiamo portato a casa poco per quello che avevamo fatto e allora sicuramente il Teramo mi aspetto lo stesso atteggiamento sistema di gioco vedremo sappiamo che loro davanti sono molto bravi come le squadre forti e quindi dovrò portare qualche precauzione in fase difensiva Purtroppo Tulli non sarà della gara qui perdiamo in questo momento un giocatore fortissimo e si va a giungere a Maddio che poi è vero che in questo momento De Grazia sta facendo bene tutto però è un giocatore sempre importante per la categoria quindi vai a perdere due giocatori oltretutto i più esperti della squadra e quindi di necessità virtù stringersi attorno a questi ragazzi loro hanno una squadra anche strutturata fisicamente io l'ho vista lunedì ma come l'avevo vista le altre la conosco, la conosco molto bene una squadra molto quadrata una squadra che ti dà poco spazio da giocare bada molto al sodo e sfrutta al meglio le proprie caratteristiche davanti che hanno tanti ricambi e sulle palle inattive perché sono pericolosi con Emerson e con altri che vengono a saltare è una squadra proprio di categoria hanno creato una squadra da vertici altro magari non belli ma efficaci io ti dico in questo momento veramente partita dopo partita loro davanti sono bravi come il Pordenone, come il Bassano, come anche il Padova però in questo momento ho bisogno proprio di rafforzare la linea centrale per questo motivo però vado a rafforzare lì perdo magari un uomo davanti ma ce lo aggiungo a centrocampi e sugli esterni quindi l'obiettivo non è tanto è come cercare di evitare qualche pericolo centrale ma nello stesso tempo il mio pensiero lo sapete mi conoscete dopo tre mesi è quello di offendere in un'altra maniera non di abbassarsi perché giocando così i due esterni devono andare i due centrocampisti a turno diventano attaccanti abbiamo due attaccanti anche fissi quindi 4-5 giocatori offensivi assolutamente è una lettura difensiva ma poi nello stesso tempo una lettura di quello che poteva essere la fase offensiva la Feralpi lo scorso anno è entrata nel playoff grazie alla mia media punti ma perché se no diventi patetico uno che va via dice sempre la sua no, rimane, rimane chi sa di calcio sa che è così poi ho commesso degli errori anch'io guai assolutamente ci mancherebbe con la squadra che avevo io credo che un paio di posizioni in più potevi farlo ma un paio, ma un paio di posizioni in più era quinto o sesto posto eravamo settimi e ottavi a 3-4 punti quindi non si sta parlando di arrivare primo e sei decimo o primo e sei quinto eri ottavo e dovevi diventare sesto questa è una cosa dove non mi è andata giù ma non mi interessa più non mi interessa penso veramente dove mi trovo bene lavorare con questi giovani e cercare di toglierci più soddisfazioni possibili